Marco De Angelis, che è l'amministratore unico del Centro Medico Lombardo, che viene inaugurato oggi ma sarà operativo già da domani, ci spiega quali sono le specialità di questo Centro Medico e quali saranno gli esami che si potranno fare qui. Il Centro Medico Lombardo, che è appena aperto in Palazzo Regione, con il via Mecchio a Regioia, nasce dall'esigenza di coprire una fascia di mercato sanitario di qualità e quindi mettere insieme professionisti che proveniendo dalle varie realtà ospedaliere milanesi e lombarde, professionisti di alto livello affermati nel loro settore e riconosciuti a livello internazionale, potessero avere un luogo comune di cooperazione e di collaborazione al fine di mettere insieme le menti e produrre un risultato finale al paziente di elevata qualità. L'elevata qualità la si percepisce nei tempi di attesa veloci, nella qualità e nell'investimento sulle apparecchiature, nel curriculum attraverso il quale abbiamo scelto i professionisti che dovessero collaborare con noi. Avremo un centro all'interno di pediatria integrata, un centro per la chirurgia bariatrica, quindi per il trattamento della grande obesità, un centro per la psicologia correlato alle problematiche del stress da lavoro, abbiamo un centro d'ontoriatrico all'avanguardia, quindi all'interno di questa struttura di mille metri quadrati troverete tutto questo tipo di servizi. Si dovranno fare anche per esempio le analisi del sangue? Analisi del sangue, medicina estetica, chirurgia plastica, quindi diciamo che il paziente entrando nel nostro centro può essere gestito a 360 gradi sotto gli aspetti della medicina ovviamente privata. Quindi sarà aperto quanti giorni alla settimana? 6 giorni alla settimana, avremo l'orario dalle 8 alle 20 tutti i giorni, da lunedì a venerdì, mentre il sabato dalle 8 alle 20.